Moto, grande successo per la 26esima edizione della Moto Befana WISP. Grande partecipazione alla 26esima edizione della Moto Befana WISP con oltre 400 moto cannerita all'iniziativa promossa dal Comitato Regionale WISP tramite la struttura di attività Motorismo Regionale Umbra in collaborazione con Moto SOS Protezione Civile e il patrocinio del Comune di Perugia e quello di Magione. Dalle prime ore del mattino del 6 gennaio i motociclisti provenienti da tutto il centro Italia sono saliti nel centro storico di Perugia per invadere pacificamente l'intero Corso Vannucci rinnovando quel rito che ormai si ripete in interrottamenti da 26 anni. Ad accogliere tutti erano presenti l'assessore Merli, il presidente WISP regionale Umbra Fabrizio Forsoni, Daniele Federici, presidente del Comitato Perugia Trasimeno, Stefano Moretti, responsabile WISP Umbra Motorismo oltre agli ideatori Stefano Mori e Francesco Corsini con lo staff al completo. La rumorosa carovana scortata dalla polizia locale, dai carabinieri e dalla polstrada ha preso il via alle 9 e mezza in direzione Olmo dove si è divisa in due percorsi, quello stradale di 50 km e quello fuoristrada di 30 km per riunirsi a Monte Buono dove le due colonne si sono riunite per il ristoro offerto da busso Cash & Carry. A mezzogiorno come da programma la ripartenza per raggiungere la destinazione finale a Dagello presso la residenza Nuova Alba che ospite a soggetti con disabilità psichiche e fisiche. Ad attendere i motociclisti, gli operatori e gli ospiti della struttura cui è stata portata in dono una macchina per il caffè e le tradizionali calze offerte dalla perugina Nestlé.